Siamo a Venezia, 25 aprile 2003. Siamo appena arrivati e questo è il nostro nido d'amore. Ole! Di qualcosa ti piace? Oh, ma c'è più traffico che l'attolino in centro. C'è anche la tv. Qui sanno? Na una profonde di tipo di unità e di tutte le due. Sabo, l'arghiamo a Grazie. Come on, everybody. Cheers. Oh. Qui ci vuole un vigile adesso. Quanti dovrei fare la foto, c'è? Quanti dovrei fare la foto. 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 Ciao. Scusate. 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 . Maria, dove vai? Tutti qua. Sprecciate. 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 Dependiamo. No. metto io così vai non puoi far aspettare tutte le persone dai lo stavano aspettando noi allora la faccio io tu non te lo dica stessi domando stessi domando metti di più vicino alla telecamera dietro la telecamera la telecamera la telecamera la telecamera venite qua venite qua la telecamera 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 la telecamera